Just take my hand and follow me, together we will be... Una pallottola di carta? Niente male, Phoebe, ma devi lavorare sulla tua... tendenza al soffocamento. Vorrei tanto sapere chi me l'ha tirata. Sono stata io. Veronica, perché non l'hai masticata? Io sono destinata ad essere scelta, stupidina, e non lascerò nulla di intentato per ottenere questo. È stata lei, non è vero? Io e te siamo nemiche e neanche 60 litri di frullato cambieranno questa situazione. La solo del coro sarà... Ok, ho capito. In fondo hai mantenuto la promessa, ti sei fatta scivolare tutto addosso. Ti porto qualcosa per asciugarti. Vedo che il consiglio della mamma ha funzionato. Vuoi passare alla vendetta? E come? Piano piano rifletti, nei secoli la vendetta è sempre stata... Hai detto e come? Certo, quella non può versarmi il frullato addosso. Perfetto. Ho scoperto che se Veronica prenderà un brutto voto in matematica, sarà cacciata via dal coro. Hai un piano? Sì, ne ho anche uno con cui non rischiamo la prigione. Sostituirò il suo tutor con un nuovo tutor. Max Thunderman. Farai in modo che prenda un brutto voto. È così subdolo. È così elettrizzante. Benvenuta nella Dark Side. Ehi ragazze, sono stata interrogata e ho preso una A. Una A? E sapete chi mi ha aiutata? Il mio nuovo ragazzo. Il tuo nuovo ragazzo? Hai dimenticato lo zaino, bambina. Bambina? Grazie, Max. Sei uno spicchio di cielo. Un momento. Voi tre siete sia i tutor che i suoi fidanzati? Proprio come te, amico. No. Lei con me ha un rapporto diverso. Dice che io so mettere la poesia nello studio. Allora, ci sta usando tutti quanti. Ma questo non vi dà fastidio? Si fa del primo anno. Per noi è una pacca. No, si dice pacchia, Tom. Sono tutor di ortografia. Benvenuto nel club mercoledì. Ciao, Max. Certo, stavolta hai fatto tu da tutor a me. Volevo che capissi quanto fosse orribile Veronica. Quindi tu mi hai aiutato nonostante il mio tradimento? Certo, sei mio fratello. Grazie, è molto carino. Vi comunico che ho deciso che avrà l'onore di fare la solo... Aspetti. Devo fare l'audizione. Mi dispiace, Fibi. Le audizioni sono finite alle quattro. Manca ancora qualche minuto alle quattro. Cosa? Un momento come possibile. D'accordo. Hai due minuti per farmi tornare sulla mia decisione. E' brava. Ma adesso arriva la testa. Mercoledì non lo permette. I'll be standing right beside you. And this is the kind of world I dream of. The kind of world I dream of. The kind of world I dream of every night. And this is the kind of world I dream of. Approfitterò del regalo da Dio che ho ricevuto da Evan. Una bella torta alla crema. The kind of world where everything's alright. This is the kind of world I hope for. The kind of world I want more. The kind of world where everything's alright. Dopo aver ascoltato i candidati, ho preso la mia decisione. A farela solo sarà Phoebe Tanderman. Ecco il nostro coreografo. Abbiamo provato un balletto per Cheyenne. Dacci un giudizio. Ok. Cinque, sei, sette, otto. Almeno non sono caduta di faccia. Siete senza speranza, non incontrerete mai Cheyenne. Io, invece, non ho avuto nessuna difficoltà. Tu l'avresti incontrata. E l'ho anche dato al mio numero. È lei. Ora attivo la modalità cool. Ehi, Cheyenne. Come butti? Ehi. Sta parlando con Cheyenne? Ha un grosso problema. Al mio DJ si sono incidentalmente incollate le mani l'una all'altra. Cosa? Ma è davvero incredibile. È opera mia. Così. Adesso ti serve un nuovo DJ. Esatto. Tu hai già remixato il mio pezzo. Possiamo usare la tua versione. Nessun problema. Che strano. Sembra che l'universo ci spinga l'uno verso l'altra. L'universo sono io. Grazie, Max. Mi hai davvero salvato. Bacetti. Bacetti? Ha riattaccato. Ma che bacetti. Max, è perfetto. Sei il suo DJ. Ci farai fare un selfie con Cheyenne. Già, potrei fare così. O potrei fare così. Cheyenne, dammi un bacetto. Cheyenne, dammi un bacetto. Phoebe, arrendiamoci. Non ce la faremo mai a preparare un balletto per lei. Ascolta, siamo partite da questo selfie per raggiungere un sogno. Non abbandoniamolo. L'unica possibilità sarebbe avere delle scarpe da danza magiche. Per caso ce le hai, perché sarebbero molto utili. No, io non ho delle scarpe da danza magiche. Ma forse c'è un coniglio che potrebbe realizzarle. Che domande. Certo che potrei farlo. Ma non ne ho voglia. Eravamo pronte a questo. Perciò ti abbiamo portato un mini abito da sera. E i guanti bianchi? E lo smoking? Voi non avete portato niente. Wow, Max prende seriamente l'attività di DJ. Ti correggo. Sono io il DJ di questo covo. Anche se ho appena subito una grande delusione. Max dice che il DJ è lui. Cheyenne oggi si esibirà utilizzando un suo remix. Si è preso il merito del mio remix? Che forfante. L'ha voluto lui. Ora distruggerò il suo covo. Non è molto facile con le zampette che mi ritrovo. Ehi, potremmo distruggere noi questo covo. E in cambio tu ci costruirai le scarpe magiche da danza. Ok. Quelli erano i miei libri, sciocca ragazza. Scusami, noi siamo le ballerine del... Stop! Non potete andare di sopra. Ma senza di noi, Cheyenne non può esibirsi. E va bene, vi do cinque secondi. Per andare di sopra e mettervi subito a ballare. Mi spiace, ragazze. Dovrete rinunciare al vostro selfie perché... userò quelle scarpe per vendicarmi di Max. DJ Colosso! No! 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 Inizia l'operazione e boicottaggio malletto. Scusa, credo che queste scarpe abbiano qualcosa. Che succede? Ballate, siamo in diretta. DJ Colossus, DJ Colossus, DJ Colossus, DJ Colossus, DJ Colossus. Tu non sei un DJ, sei solo un buffone. Aspetta, Shayenne. Tu devi venire a vivere con me nel seminterrato. Cuore di qui, brutto schizzato. Mamma, non puoi farmi questo. E quanto a voi due? Shayenne, so che ti abbiamo rovinato il video, ma per quanto riguarda il selfie... Cuore dai piedi! Oh, scusa. Ehi, Courtney. Ciao, Max. Pensavo che non volessi venire a ballare. No, figurati. È che non volevo venirci con te. E lui chi è? Si chiama Jacob. È di Quinta. Già, è anziano. Ehi, tu che cosa vuoi, eh? Stavamo chiacchierando, amico. Vai da qualcun altro, Primino. Ascolta, Max, sei simpatico. È solo che io sto con Jacob. Sì. Alla macchina. Lo sai, ma... Passeggiare ti sarebbe piaciuto. Perché non sparisci? Rilassati, amico. Sto ballando, vedi? Quello lo chiami ballare. Ah, a dire la verità. E come? Ti credi molto in gamba. Questo lo sai fare? Ah, e me lo chiedi? Posso irritarti, imitarti, irritirti. Non mi sfidare. So che fai una sfida di ballo. Mi raccomando, stai attento. Allora, per me è una cosa nuova. Che comincia? Facciamo bim bum bam o pari o dispari o sassocato? Che fai una sfida. E' molto bravo. Non credo di poterlo battere. Ci riuscirai. Prova una cosa del genere. No, è impossibile. Mi spaccherei. D'accordo. Fai delle rotazioni sulla testa e termina con il tuo triplo ponte. Sì, il mio triplo ponte. Ma tu come conosci la mia mossa segreta? Il dottor Colosso ha postato i tuoi video per settimana. Due milioni di visite. Vista bene, stupidi animali parlanti. Un momento. Torna in pista e dagli una lezione. Uno di noi due oggi deve vincere. D'accordo. 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 Bravo, Max. Ehi. Puoi lasciarmi? Ma sono di quinta. Ho la macchina. Allora vai a casa. Sei stato bravo, Max. Adesso mi vuoi perché ho dimostrato di saper ballare. Era questo lo scopo della sfida? Tu credi che una sfida abbia sempre uno scopo? Forse adesso hai capito cosa hai perso. Ok, cosa devo fare? Vuoi che anch'io vinca una sfida per te? Beh, visto che ti sei offerta... Sara! Io ti sconfiggerò!